Non ho niente da ammettere, ho voglia di cambiare! Moda Fashion Avenue! È scoppiata una mania! Veri abiti! Alla moda! Un completo! Rosa shock e come Barbie! Veste Shelly! Moda Fashion Avenue! E per Shelly tre modelli! Tanti accessori! Moda sportiva o elegante! Jeans ok, tutto quello che vuoi! Che sballo! È un sogno Fashion Avenue! Moda Fashion Avenue! Tanti abiti all'ultima moda! Per Barbie e i suoi amici!